ciao ragazzi se avete aperto questo video perché ti ha incuriosito il titolo ed è proprio così il coach oggi ti fa vedere in un solo movimento un total body quindi tutte le fasce muscolari vengono chiamati in causa prova a guardarlo bene io ti offrirò due modi uno base e l'altro un po più avanzato in questo esercizio la cosa fondamentale è tenere gli addominali chiusi forti come in tutti gli esercizi ti consiglio sempre di utilizzare l'addome ok in questo caso anche le gambe poco poco più della larghezza spalla e stai attento quindi chiudi forte l'addome il primo esercizio che ti offro è poggiare guarda bene il completamente il peso a terra quindi scarichi completamente e poi vai indietro sempre chiudendo forte gli addominali e il secondo invece stesso identico movimento ma fai proprio un piegamento reale quindi un po shop andando sempre indietro quindi mi raccomando addominali così forti gambe poco più della larghezza spalla iscriviti al canale oppure lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima venati bene ciao 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 ciao